Romina Power La verità su Albano Carrisi. Ci piace comunicare attraverso la musica. Nel corso di questi anni abbiamo avuto modo di conoscere Romina Power, anche per via del percorso artistico che questa ha fatto al fianco di Albano Carrisi, un amore che è stato importante per lei nella vita come nella musica. Non a caso, durante la lunga intervista che la Power ha rilasciato a TV Sorrisi e Canzoni, nel momento in cui le viene chiesto quali sono i singoli che più preferisce, e che sono stati composti durante la sua carriera, ecco che Romina risponde. Le mie canzoni preferite sono altre. Penso a due miei album come, Ascolta, Ti racconto di un amore, o, Da lontano, in cui ho messo tutto il mio spirito e il mio cuore. Oppure ai primi dischi con Albano, Atto I, e 1978, dove c'era il nostro vero spirito. Per Albano e Romina, dunque, la musica è sempre stato il ponte che ha permesso ad entrambi di fare in modo che potessero sempre tendere la loro mano nei confronti l'uno dell'altra. Romina Power, non a caso, in tal senso a TV Sorrisi e Canzoni chiarisce subito. Ci piace cantare e comunicare con il pubblico attraverso la musica. E sul palcoscenico non ci divertiamo solo tra di noi, ma con tutto il gruppo. Alcuni di loro sono con noi da trent'anni. Siamo tutti affiatati. Nonostante la musica sia sempre stata per Romina Power, il modo in cui lei sia riuscita a ricongiungersi al mondo. O comunque sia parlare di un qualcosa che per lei è stato difficile da superare. O che più semplicemente si trattava della condivisione di una qualsiasi gioia. Ancora una volta la musica è stata dalla sua parte anche quando Tarin è venuta a mancare improvvisamente, mentre entrambe le sorelle si trovavano separate a causa dell'emergenza sanitaria. Ricordo soprattutto la sua forza nel seguire sempre e solo il suo cuore. Il suo spirito guerriero per difendere i diritti umani e la dolcezza e la lealtà con cui è stata sempre dalla mia parte.